in questi giorni sta girando un video intitolato è stato il pipistrello questo video mi è già arrivato almeno una decina di volte dai contatti e tutti mi dicono guarda questo video guarda questo video ora io che preferisco restare anonimo perché ho i poteri forti che mi seguono e stanno all'incrocio prima stanno prendendo il caffè voglio dirvi perché non guardare questi video prima di tutto il nome del sito che fa il video si chiama contro punto tv se fai informazione perché devi essere per forza contro un'informazione non è né contro né pro un'informazione è un'informazione e basta seconda cosa queste grafiche accattivanti di questi tipi di video vi devono far riflettere se un video come questo o come la maggior parte di video che faccio avesse un'anteprima normale non lo guardereste se un video invece nell'anteprima mette immagini forti immagini con colori davvero accesi e messi su uno sfondo bugio giusto da farvi credere che alla fine del mondo sta arrivando quel video viene cliccato di più si chiama psicologia esiste e viene applicata e non è un qualcosa di segreto terza cosa in una situazione del genere fare dei ragionamenti fare un video e dire quello non ha detto questo quest'altro ha nascosto quest'altra cosa dirlo con un video e non dare nessuna prova sono davvero buoni tutti io ad esempio vi dico che questo biscotto qui che sto per mangiare contiene la verità è un biscotto su mille lo danno solo a me perché contiene e me lo mangio tiè me mangio il biscotto che la verità quindi ragazzi la prossima volta che credete a un video complottistico prima di tutto non me lo mandate seconda cosa pensate sempre che la visibilità su rete porta soldi ok essere visibili porta soldi se i complotti avessero un senso al di fuori del commercio non sarebbero dei libri venduti nei negozi ok perché andando avanti così il futuro è che incomincieremo a credere alle storie dei film porno è uguale ci scambieremo dei messaggi con scritto ehi guarda questa maestra cosa ha fatto il suo alunno è successo davvero ma te lo vogliono nascondere grazie a tutti